Ci troviamo a Polla in Via Agna, una delle tre sedi di Vintage Moda con i suoi tre punti vendita ovviamente a Polla, Sala Consilina e Buonabitacolo. Ospite d'eccezione per presentare e dare lustro alla nuova collezione di Natale per le feste natalizie e le promozioni in atto, l'attore Massimiliano Morra che appunto ha raggiunto Polla e Sala Consilina. Noi c'eravamo con le nostre telecamere e abbiamo ascoltato proprio il noto attore napoletano. Mi trovo adesso in questo momento nel centro Vintage Moda di Polla, sono stato anche a Sala Consilina, devo dire la verità una bellissima struttura sia qui che lì e ovviamente come hai detto tu, siccome manca veramente poco a Natale, colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti i nostri telespettatori. Bene, noi ovviamente facciamo i giornalisti, siamo curiosi, quando ti vedremo in televisione, siamo vicini al 2019, quindi nuovi progetti, quando ti potranno rivedere, soprattutto il pubblico femminile. Sì, lavorativamente parlando stiamo valutando alcune cose, non c'è ancora nulla di concreto perché purtroppo il nostro lavoro è sempre un incognito, quindi non sappiamo mai di preciso quello che succederà. Ci sono alcune cose che bollano in pentola, però un po' per scaramanzia, un po' perché non è ancora nulla di sicuro, tengo ancora, aspettiamo, insomma vediamo l'anno nuovo cosa ci porta. Ringraziamo Massimiliano Morra per Vintage Moda, dove i saldi non finiscono mai, ovviamente salutiamo tutto lo staff di Vintage Moda, ricordiamo le sedi a Polla, Sala Consilina e buon abitacolo. Ciao a tutti.